ragazzacci del web un salutone dall'abaccio e bentornati nella crate above and beyond e per inizi il video come sempre vi ricordo di lasciare un like per sostenermi la serie del canale iscrivetevi se ne va a lasciarmi un commentino da dei consigli su quello che abbiamo visto quest'oggi detto ciò ragazzacci bentornati nella crate above and beyond nello scorso episodio abbiamo fatto la pretty pipe e abbiamo sistemato un sistemino per la gestione dei vari inventari fra un episodio dell'altro mi sono occupato di alcune cosettine ho modificato un pochettino qua le varie farm dato che c'è le ottimizzate mettendo i brass funnel e facendo un solo naso in modo e maniera da rendere un po più bellina la faccenda il problema fondamentale che ho riscontrato è stato di chunk loading ovvero nonostante io sia sul server e questa zona tutte quelle zone le varie farm sono chancate e i vari macchinari funzionano con il chunk loading le culture non crescono non ho capito bene il motivo per cui non devono non devono crescere quando io non sono sul server fatto sta che fondamentalmente non lo fanno e di conseguenza cosa succede qui come potete ben vedere ho messo giù un furnace engine con una fornace che per fare charcoal e dare ovviamente movimento a tutto quanto questo mi ha consentito di creare un 6.000 di charcoal e con questo charcoal alimentarci le varie fonti energetiche che ho in questo modo ho aumentato le performance in quanto ovviamente charcoal più performante che delog in sé per sé il problema fondamentale appunto è che non essendo un sistema autosostenibile per il semplice fatto che quando non sono sul server gli alberi non crescono i crop non crescono non ne capisco il motivo ho riscontato alcuni problemi e l'unico sistema che mi è venuto in mente per sistemare la cosa è mettere giù o meglio aggiungere al pack i botani pot la soluzione un po così però fornisce un pochettino di log per quello che serve non in questo modo non vado in deficit pesantemente poiché ho messo qua dietro dei tubicini che alimentano comunque sia a prescindere il furnace engine e non vado troppo sotto di log ne ho messo giù 3 3 qui e 3 la per le kelp quindi bene o male un pochettino tampono ecco non li vorrei utilizzare per grosse cose vorrei tenere il pack più nature possibile diciamo però purtroppo se ho questa difficoltà in qualche modo la devo sopperire fatto sta che quest'oggi ragazzacci mi vorrei occupare di una parte della quest diciamo facoltativa ma altrettanto importante ovvero la creazione degli inferno al meccanismo ferma nel meccanismo sono tendenzialmente abbastanza semplici da fare basta buttare sopra dei precisi un meccanismo liquid soul e lava quindi dobbiamo creare una farmina di liquid soul che anch'essa è molto semplice basta fondamentalmente mixare le whipping vine e le twisting vine con un blaze burner e per quanto riguarda la lava beh nel nether ce n'è parecchia ma partiamo con ordine la prima cosa ovviamente che devo fare è procurarmi un blaze quindi mi serve uno degli empty blaze burner che ho trovato in giro noi prendiamo uno ci andiamo alla fortessa che grazie al portalo che abbiamo qua possiamo raggiungere in maniera easy per effetto e ci andiamo a catturare un blaze guarda che è qui bello pronto pronto per i nostri scopi a pasta per il resto ho già progettato per quanto riguarda la parte della lava la farmina diciamo e quindi mi serve la cartina che non ho qui dovrei avere di qua esatto e ci andiamo a caricare la schematica poi mi serve il cannone che ho qua a pasto andiamo nel nether e intanto direi di piazzare il cannone e dare un'occhiata alla zona nel nether non troppo più lontano dal portale quella vicino casa ho già preparato una zona di lavoro dove ho già piantato delle coltivazioni di vines e dove c'è una zona lavica che dovrebbe essere adeguata alle nostre esigenze direi che il cannoncino lo possiamo posizionare qui e la nostra schematica io la metterebbe i diamo un po sì direi che intanto qua potrebbe andare bene poi con le varie sistemazioni del caso direi di alzarla se riesco perché non credo sia molto semplice qui la faccenda visto che siamo sopra un lago di lava però ci proviamo ci siamo quasi un pochettino oh yes a sto punto però non mi piace che mi sbattano le pare nei muri quindi la sposto di qualche blocco in qua sì 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 dovrebbe andare bene perfetto ora tu ti metto qui e poi mi dia al libricino così ci prepariamo le varie cose e dunque per quanto riguarda la raccolta materiali direi che siamo a posto la prima parte l'abbiamo completata non ci rimane altro che dare la via al cannoncino e lui dovrebbe iniziare a montare la struttura dopodiché non dovremmo fare altro che ovviamente controllare che sia tutto in ordine e poi per quanto riguarda il discorso lava dovremmo essere a posto ok molto bene non è perfettamente centrata lo lo ammetto però vabbè che volete fa ce lo faremo andare bene io non c'ho abbastanza precozi li vado a prendere bini fatto anche il ponticello direi che siamo a posto ora ok la colla mi ce l'ha messa perfetto questo è impostato sì l'unica cosa eventualmente c'è da buttare giù la fune direi che un pezzettino giù basta ora ma senti non dovrebbe andare in conflitto con qualcosa quindi non ci dovrebbero essere fondamentalmente problemi e nel momento in cui io gli do la via questo gira quello pompa vero e dovrebbe arrivare la lava forse un giorno che non piove tanto quando ti pare tranquillo senza senza problemi ti piace la tanica vero sapevo io guarda 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 schifoso lezzo maledetto mi fai male catrota no c'è qualcosa che non gli piace con la tanica vabbè non è un problema insurmontabile visto che comunque si abbiamo visto che la lava arriva e noi comunque sia la dobbiamo portare qua di sopra di conseguenza se io avessi abbastanza tubicini ne ho 14 potrebbero essere pochi dovrei comunque essere in grado di portarmi su la robetta si sono decisamente pochi vabbè ne faremo altri all'occorrenza fatto sta che fondamentalmente quello che dobbiamo fare è portare dalla acqua la lava e poi qui fare un sistema per la produzione delle robette fattibile datemi un attimo allora ragazzi ci credo di aver più o meno raccattato tutto quanto il necessario e mi accingerei a sistemare le cose partiamo col creare le due farm che fondamentalmente ci serviranno ovvero farm che raccolgono le vines sono due farmine molto semplici di base hanno lo stesso funzionamento di una farm di kelp o quant'altro e dovrebbe essere una robettina di questo genere intanto facciamo un po di pulito se no qua Enze lavora perfetto e più o meno è che stiamo qui a vedere il capello qui ho lasciato una colonnina di esempio c'è un po di bocchettini e veniamo qua in mezzo qui ci andiamo a mettere un magma block con sopra un inquisit fan magari girato nel verso giusto che non è questo quasi mi devi ruotare così perfetto poi qua di sotto ci andiamo a mettere un repeater così e proseguiamo buttandoci poi un filamento di redstone in modo di avere la possibilità in un secondo momento di spegnerla a piacimento e lo stesso discorso farei da questa parte in teoria qua di sopra com'è che mi sa che l'ho messe sforzate? sono pirla? si sono pirla ma va bene ok sistemata quella che è la mia pirlaggine direi di proseguire nei nostri piani quindi anche dalla parte di qua mettiamo un bel magma block con su un fan anche esso girato verso il basso con un repeater e della redstone in modo che se io qua in mezzo vado a posizionare la leva in teoria dovrei vedere girare sia questo che questo così ho un modo per poterle spegnere ovviamente sopra ci andiamo a mettere un mechanical bearing con sopra una una due 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 possono bastare in questo caso e poi dobbiamo mettere giù la roba per alvestare prima però vorrei capire da che parte gira mettiamo una fila di questi di supporto e poi come sempre colla meccanica alvestare meccanica alvestare meccanica alvestare e così lo discorrebbe in cima a tutto ciò ci va messo un portable storage interface ale pronti e la prima è fatta però devo fare l'altra fatto ciò vorrei capire dove dover mettere questo qua in teoria dovrebbe andare qui ok si quindi alla stessa altezza Shander ha messo dalla parte di la il suo compagno e adesso io ho la posizione dove poter andare a mettere il blaze burner blaze burner che io metterebbe qui qua in mezzo si si praticamente noi dovremmo far confluire diciamo così il frutto del nostro lavoro sopra le sbarne però mi sono dimenticato robe come sempre bravo me di conseguenza qua sopra ci va messo lui qui e sopra di questo il frullino ora shit belt in teoria se io a te ti metto qui con questo qua questo qui e questo qua e faccio così yes magari qua in mezzo ci vado a mettere un paio di drawer giusto per un po' più in qua eh facciamo le persone precise e strette ok e poi ci vanno messi i vari funnel questo caccia fuori questo caccia dentro questo qui ci farà da buffer praticamente in modo in maniera che ci avremo possibilità di gestire meglio gli item mettiamola così e ovviamente mi sono dimenticato di mettergli uno storage senza non funziona ho queste due ceste dopo le sfrutteremo ora il concetto di base qual è? ecco questo coso ci andrà a creare il il liquido che ci serve per fare i cosi quindi a sto punto qui ci andiamo a mettere la pompa con i tubi una tank di di buffer e lo sprout quindi tu vai qua tubettino tani cozzo che accio accio non ci sta eh facciamolo un 4x4 bello ciccione come ci piace a noi e ora da qui posso far partire la linea con un'altra pompa un tubetto che esce sale qui ci va la pelt che intanto mettiamo giù poi vediamo così perlomeno mi regolo con lo spruzzino spruzzino che ci piace che sia così ora gli spruzzini ce ne vanno 4 1 2 3 e 4 uno sarà alimentato dal liquido che uscirà da qua e gli altri 3 saranno alimentati a lava lava che io a sto punto prendere da là ok giusto per diciamo sicurezza ho messo una tannica anche qua e ora se a te ti appiccico ovviamente non ce n'è uno che gira come dovrebbe ok perfetto tu giri bene tu giri bene ora vediamo un po' arriva la lava qui ne arriva in quantità industriale perfetto questi pompano bene si ce la fai? perchè arrivi qui e ti fermi? hmm volesti dire che è un limite dopodichè non ce la fai più? eh e quindi? ok ho imparato qualcosa di nuovo i tubi hanno un limite di lunghezza di portata non posso portarli troppo lontano quindi nel mezzo ci va messa una pompa va bene ora io ok che comunque sia la rotazione me la volevo portare avanti e me la volevo prendere da là però diciamo che ci potevano essere metodi migliori ma per ora bisogna accontentarsi ok la lava arriva e qui siamo a posto perfetto ora non mi rimane altro che collegare tutto quanto e trovare un posto a sto bracci almeno chi non sarà facile ma ci provere e dunque ragazzacci diciamo che dovrei essere arrivato al quid della situazione qui abbiamo i nostri spot che spruzzeranno i precision mechanism e li faranno diventare l'infernal mechanism qui abbiamo collegato più o meno tutto in maniera più o meno brutta ma quello è un altro discorso e dalla parte di qua ho messo giù un drawer caricato da charcoal che grazie al braccino dovrei essere in grado di poter rifornire tutto quanto lui si sta accendendo e io però salve se li metto la cesta forse funziona come sempre grazie le ceste me le rubacchio da qui che dovrei essere in grado di farlo se avessi dello spazio in inventario ma il che mi risulta alquanto complicato però ci possiamo lavorare sempre volendo a posto quindi se io a te ti metto qua e a te ti metto qua dovremmo essere a posto più o meno si questo scarica queste arrivano queste arrivano si crea il liquido magico perfetto si accumula qua dentro e viene trasportato nello spot top della vita abbiamo anche un po' di riserva il che non è male ed infine grazie ad un andesite basing loro vengono caricati spruzzettati e buttati qua sopra e otteniamo così finalmente l'inferno al meccanismo ora vorrei fare tutto qua allora questo l'ho fatto sono stato bravo questo l'ho fatto sono stato bravo questo mi scivola un secchiellino di questo che posso prendere da qua no perchè sei una persona orrevonda mi hai spruzzettato un po' di robetta in giro te non va bene come mai ok abbiamo un altro secchiellino l'abbiamo preso ora vediamo di rimettere giù la pompazza ecco qua non ho capito perchè te mi devi spruzzettare le cose sei una persona cattiva vabbè non dovrebbe essere un grosso problema girando continuamente le dovrebbe tenere la giusta altinza mettiamo così comunque fatto sta che abbiamo ovviamente ottenuto questo l'abbiamo fatto un secchiello di lava ti prenderò un secchiello di lava ecco fatto sei contento scioglio il secchiello di lava sono stato bravissimo lo posso buttare da qualche parte me lo devo tenere vita da tornare durante posto ed infine l'inferno al meccanismo ok e con questo ragazzacci possiamo farci le zinc machine interessante abbiamo abbastanza per farci le zinc machine si le zinc machine ho un foundry controller ma adesso non mi interessa si fanno con le zinc casing che vuole le zinc sheet della stone ok ok ora di zinco abbiamo i blocchi non dovrebbe essere un problema lo scompattiamo ma se ce ne facciamo una cinquantina di di scittine così perlomeno per un pochetto siamo a posto e con queste qui qui e della stone ci dovremmo poter fare gli zinc casing che non credo abbiano altro utilizzo se non quello di ehm farci i cosi però diamo un'occhiata si ok no solo questo serve vabbè li posso anche piazzare capellini che sono però eh non so accio non so accio potremmo trovare anche un altro utilizzo ora fondamentalmente a me quello che mi interessa da fare è questo coso qua la zinc machine e completare così il capitolo 2 ottenendo un altro pochettino che male male non mi fanno e proseguire verso verso il raggiungimento della luna ora domandina veloce al volo con questa qui ci faccio il controller il driver controller top 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 ci faccio questi qui interessante e la mega torch non male non male detto ciò ragazzacci con in mano uno uno zinc casing che nota adesso essere vuoto all'interno interessante direi che per oggi ci possiamo salutare qua e ovviamente come sempre se vi è piaciuto il video vi dite un altro lasciate un like e un commento condividete il studio con tutti i social ci dico tra l'altro trovate in descrizione se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale Dalla bacio che finalmente ha la possibilità di creare il driver controller forte un saluto e un abbraccio alla prossima ciao